Non è carino sparare alla gente, credimi ho una certa esperienza nel settore. Che cosa vuoi? Voglio quello che vogliono tutti, soldi. Ho conosciuto tuo figlio, eravamo compagni di cella a Lensbury. Mi ha raccontato la sua triste storiella, che ti avrebbe voluta conoscere, che ti avrebbe cercata una volta uscito da lì. Ho anche detto che eri ricca, questo mi ha interessato molto. Puoi immaginare la mia delusione nel venire qui e scoprire che tu e il tuo caro maritino eravate quasi al verde. E quella foto che gli avevo dato, come hai fatto ad averla? Oh, Jamie mi ha raccontato anche di quella. Ho fatto una piccola gita a casa dei Fisher. Ci ho messo solo cinque minuti mentre la vecchia era in chiesa. Che cosa hai intenzione di farmi? Credo che renderò la tua vita un tantino complicata.